Ho la sensazione che sarà un volo molto interessante. Un pericoloso terrorista e un pericoloso agente speciale hanno preso lo stesso aereo. Chi comanda? Qui. Per il ciclo action. Vorrei ammazzare tutti su quest'aeroplano se non riesco a trovare il modo di eliminarlo. Wesley Snipes. Passenger 57. Terrore ad alta quota. Venerdì alle 21 con Iris.